Musica Partecipato incontro a Bagnara Calabra alla presentazione del movimento civico I Love Bagnara è stato Domenico Soldano, coordinatore d'Anima del Neonato Gruppo, coadjuvato da Melosofio e da altri fondatori e sostenitori a presentare le linee guide del progetto che sta alla base della nascita del movimento. Tante le presenze con numerosi imprenditori, commercianti, associazioni e semplici cittadini che hanno seguito con interesse gli interventi dei vari relatori che si sono susseguiti nel corso della serata. Soldano, dopo aver illustrato anche attraverso l'utilizzo di slide ed immagini il programma di massima del movimento, ha invitato tutti a darsi da fare. Tocca a noi, ha detto, cominciare a confrontarci e lavorare per il bene di questo Paese. È necessario impegnarsi, ciascuno con le proprie repossibilità e con le proprie capacità, per contribuire tutti insieme alla rinascita di una delle più belle città calabresi. Corposa, particolareggiata e ricca di spunti la relazione di Domenico Soldano, toccate gran parte delle problematiche che hanno impedito in passato e che frenano tuttora la cittadina della Costa Viola nell'intraprendere percorsi virtuosi e redditizi. Dai servizi alle tasse, dal turismo alle attività produttive, dalla pulizia al decoro, all'arredo urbano, passando per il sociale ai bisogni dei più deboli. Non sono mancati riferimenti alle gestioni amministrative passate, con una pesante eredità caricate sulle spalle di tutti ed un dissesto che condizionerà non poco la gestione di chi andrà ad amministrare il Paese. Non è mancata anche un momento di commozione, quando sullo schermo sono apparse delle bellissime immagini di una bagnara che, come spesso ha ripetuto Soldano, è bella, molto bella, ma ha bisogno dell'impegno di tutti per tornare ad essere la vera ed unica perla della Costa Viola. A seguire gli interventi di Tommaso Ramondino, che ha portato ai saluti dei Lion di Bagnara Calabra, Maurizio Gramuglia, che ha parlato della positiva esperienza portata avanti dai toronai bagnaresi e del raggiungimento dell'IGP per il torrone di Bagnara, risultato non facile, ma raggiunto grazie alla collaborazione di tutti. E poi ancora Melo Sofio, che ha ricordato l'esperienza del Carnevale bagnarese e la testimonianza dell'imprenditore Carmelo De Forte, che ha invitato tutti alla concretezza. È stata poi la volta dell'ingegnere Antonello Scarfone, responsabile del progetto della Dorsale Verde, che ha spiegato l'importanza del recupero della rete di antichi sentieri e strade pedonali per la valorizzazione dell'intera area e la salvaguarda del patrimonio terrazzato della Costa Viola. Stefano Poeta, presidente dei dottori commercialisti di Reggio Calabria, ha posto l'accento invece sulle difficoltà di operare in un comune regime di dissesto, con vincoli e regole da rispettare, ma con la possibilità di iniziare un percorso virtuoso che agevoli l'iniziativa di associazioni, enti ed imprenditori, facendogli prendere coscienza a diventare parte attiva del cambiamento. A chiudere la caralata di interventi, Vittorio Caminiti, presidente regionale dei Federalberghi, che ha chiamato tutti ad un'assunzione di responsabilità e, dopo aver ricordato il suo amore ed il suo impegno verso una cittadina a cui si sente particolarmente legato, ha indicato alcune strade da seguire partendo da ciò che già offre una città come Bagnara. Il torrone, il patrimonio storico, artistico e culturale, le chiese, il pane, il mare, tutte cose che Bagnara già possiede. Non bisogna inventarsi nulla, ha detto, tocca a voi, tocca a noi, rimbocchiamoci le mani che remiamo tutti nella stessa direzione. Bagnara è vostra, qui ci sono le potenzialità per risollevarla e puntare in alto, così com'è nelle intenzioni di Soldano e del suo movimento. L'idea progetto di I Love Bagnara è forse impegnativa, va limata in alcuni punti, adeguata alle mutate esigenze, ma la volontà dei fondatori del movimento, almeno per ora, è quello di stimolare un dibattito politico troppo piegato su se stesso e poco inclini a farsi dettare i tempi da neofiti ed ultimi arrivati. Ma la freschezza e la forza dirompente di questa iniziativa, al pari di altri che pian piano stanno venendo fuori, potrebbe essere la vera novità delle prossime elezioni amministrative.